Quarantaseiesimo derby del cupolone. Contro tutti i pronostici, la Lazio ha rispettato la tradizione che dal 47 la vuole favorita sui rivali giallorossi. Già al primo minuto la palla carezza la traversa su tiro di Larsen. La reazione della Roma punta su Pandolfini, che non coadiuvato dai mediani dovrà attenuare ogni sua belleità. Nel primo tempo gli opposti portieri si frivolgono. Albania allontana di Pugno una situazione pericolosa, mentre Sentimenti IV si fa applaudire al quarantunesimo in un difficile doppio intervento. Nella ripresa dopo appena nove minuti si concretizza la superiorità biancazzurra. Bergamo da venti metri sferra un tiro micidiale, respinge la traversa ma Pucinelli, ah hop là, è fatta. La Lazio raddoppia nel giro di tre minuti, Antoniotti mette lo sconfiglio nell'area romanista e Lucchesi senza volere serve Pucinelli che non ci pensa due volte a deporre in rete. Il risultato non muterà più, anche perché a difendere la rete raziale c'è una sala cinesca chiamata Covi. Dopo la recente tempesta è tornato in sereno in casa la fiale, anche se ciò ha colmato d'amarezza il piccolo tifoso romanista. Ecco. 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 Ecco.